La porta tra Occhie e Sante faranno il lomere sul sala. Vi preghiamo di riceverli con un lungo e con il vostro applauso che vi accompagni fino allo tavolo magari alzandoci in piedi così l'accoglienza sarà più calorosa. Magari alzandoci in piedi così l'accoglienza sarà più calorosa. Signore e signori facciamo un applauso con per gli sposi Sara e Dalberto! Continuiamo con le mani! Grazie a tutti.